ciao eccomi qua per farvi gli auguri di natale negli ultimi mesi mi avete seguito molto e ebbene voglio continuare così perché ho avuto molti molti risconti da tutti i tutorial gis che ho avuto ho visto che vi siete appassionati ho visto che avete commentato e avete avuto anche benefici dai miei tutorial quindi voglio continuare e adesso questa sera prima di andare a fare il cenone voglio augurarvi buon natale e niente voglio voglio mostrarvi l'ultima mappa che ho creato proprio in questi giorni è una mappa del mondo è una mappa che che cattura tutti i post di instagram che scrivono che scrivono x mastri e adesso faccio l'ultimo aggiornamento questa mappa si aggiorna praticamente in tempo reale e spero che sia il mio biglietto il mio biglietto di auguri a tutti voi che mi che mi state seguendo ad esempio è interessante vedere come nelle nei posti sperduti ci sono le persone che che scrivono che mandano il loro albero di natale qui a terana l'idea era quella di trovare gli alberi di natale nel nelle piazze nelle piazze pubbliche ma qua sta venendo proprio fuori di tutto in kazakhistan e questi sono proprio i post di instagram se io schiaccio su uno di questi post è proprio è proprio lui albunescu che che scrive che manda la foto del suo albero bene questa questa mappa è pubblica oggi l'ho pubblicata e potete raggiungerla ai vari indirizzi all'indirizzo questo qua che ho sempre impressione e poi vabbè comunque lo leggo al video e niente vi auguro un buon natale a tutti spero che lo passate con con le vostre famiglie con con i vostri amici e ci vediamo all'anno prossimo buon natale 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 all'anno prossimo buon natale